ciao a tutti ragazzi e ragazze benvenuti sull'hele king tv e con quest'altro ce lo mi manca della raccolta calciatori 20 21 iniziamo la raccolta mi raccomando ragazzi subito immediatamente un bel like a questo video e commenti a più non posso sulle vostre figurine preferite che vedrete in questa edizione questo ce lo mi manca allora la prima che è la numero 7 ce l'abbiamo con le copertine poi abbiamo la copertina 85 86 2015 2016 ce l'abbiamo anche questa no questa vediamo un attimino che è la numero 33 ce l'abbiamo quindi altro doppione quindi abbiamo trovato i doppioni delle copertine va bene andiamo al benevento perché del benevento ne ho veramente tante di figurine però forse queste qua una parte mi manca perché l'ho trovata in altre due tre non mi ricordo caldirola c'è quindi doppione ma e temai col numero 74 mi manca si va incastrare qui quindi il benevento potrebbe essere una delle squadre che riesco a terminare per prime per quanto riguarda questa raccolta dei calciatori poi andiamo al cagliari con la 122 che mi manca che zappa giocatore classe 1999 poi abbiamo la numero 132 che invece ce l'abbiamo che è sottile andiamo alla fiorentina ecco la fiorentina 167 ci manca milenkovic giocatore serbo poi andiamo al genoa abbiamo l'allenatore l'ex allenatore genoa col 215 ronaldo maran poi andiamo all'inter abbiamo la 247 che è radu devo dire tra le big forse l'inter è la squadra con cui sto messo meglio con più figurine poi abbiamo la 249 che è scrignar anche perché dopo sto spacchettamento anche sono aumentate le figurine su questa pagina dell'inter poi abbiamo la 261 perisic anche questa ci manca quindi si sta andando benissimo con l'inter intanto lo stavo attaccando tutta storta sono riuscito a riprendermi poi andiamo alla juventus dove abbiamo la 288 che è federico chiesa poi andiamo alla roma quindi saltiamo la lazio il milan il napoli il parma andiamo alla roma dove abbiamo la numero 400 che è smalling giocatore che la roma ha voluto riportare nella capitale a tutti i costi dopo che era tornato al manchester united dopo il prestito dell'anno scorso l'armeno 417 ci manca poi andiamo alla samp dove abbiamo la 432 che ci manca va qui sopra a ugello poi abbiamo la formazione ludinese col 554 quindi dobbiamo andare parecchia avanti ecco la ludinese e questa ce l'abbiamo quindi doppia poi serie B 622 del cosenza poi della gremonese abbiamo la 628 delle empoli la 634 che ci manca proprio qui va del frosinone abbiamo la 646 no non è il frosinone in lecce scusate anche questa ci manca bene poi abbiamo la 671 del pescara e ce l'abbiamo invece questa qua del pescara poi il pescara poi il pescara 678 c'è eccola del venezia 716 ce l'abbiamo sempre del venezia abbiamo la 719 completiamo un'altra squadra della serie B questa volta il venezia è la terza squadra se non sbaglio che completiamo della serie B terza squadra completata della serie B ok ragazzi per questo video è tutto io vi saluto ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao